L'Adriatico è parte del Mediterraneo, i paesi dei Balcani sono paesi a noi vicini, che apprezzano molto l'Italia, che amano gli italiani. Molti di questi paesi sono candidati a far parte della Unione Europea. Noi dobbiamo essere protagonisti in quell'area, anche guardando alla stabilità di paesi attraverso i quali passano flussi migratori. Noi abbiamo un grande problema, che è quello dell'immigrazione irregolare. L'immigrazione irregolare passa attraverso il corridoio balcanico e attraverso il corridoio mediterraneo. L'immigrazione irregolare significa anche trafficanti di esseri umani, significa anche donne, uomini e bambini che perdono la vita. Noi dobbiamo invece favorire la migrazione regolare, combattendo scafisti e criminali che organizzano il traffico di esseri umani.